I tempi si sono dilatati, ben oltre il dovuto rinnovo dell'accordo di programma per l'area di crisi complessa scade il prossimo ottobre, ma non si intravedono troppi passi in avanti. Nelle scorse settimane il senatore Pietro Orefici ha presentato un'interrogazione rivolta al Ministero delle Emprese e della Made in Italy, quello che è stato il Ministero dello Sviluppo Economico. Ha ripetuto l'iniziativa di sindacato ispettivo anche in una commissione. Il parlamentare vorrebbe avere riscontri precisi sulle proposte avanzate per accedere al fondo da circa 20 milioni di euro da suddividere in iniziative imprenditoriali da avviare nelle aree locali. Stando ai dati più aggiornati, sono 11 in totale le istanze presentate, 5 sono state bocciate, per sé invece l'istruttore è ancora in corso. Il senatore ha cercato di avere ulteriori riscontri, ma in vitalia che si occupa di questa fase ha fatto sapere che i dati possono essere rilasciati solo al Ministero e ai soggetti che hanno presentato domanda. L'area di crisi e l'accordo di programma, esiti delle intese per la riconversione della fabbrica Eni, a circa un decennio di distanza dalle firme, non hanno mai veramente assicurato gli investimenti alternativi a quelli della multinazionale, che avrebbero dovuto rafforzare il tessuto economico locale evidentemente debole. L'entità dei fondi non ha mai convinto, visto che l'area di crisi ricomprende oltre venti comuni conge la capofila. La regione, nelle voci di bilancio per l'anno in corso, ha confermato lo stanziamento da 10 milioni di euro. Il resto spetta al Ministero. I tempi però stringono e di investimenti neppure una traccia, all'eccezione dell'unico insediamento produttivo autorizzato con questo percorso, quello per la realizzazione del ciclo del packaging. Risale però al primo bando. L'orefice nell'interrogazione conclude chiedendo l'UMI al Ministro su quali azioni intenda a intraprendere per assicurare che le risorse stanziate per il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Gela vengano utilizzate nel migliore dei modi e assicurando al territorio tempestive e reali opportunità di sviluppo.